Imprese e professionisti dell'area Vestina hanno dato vita al Consorzio Rilancio Vestino, una opportunità questa per cercare di tamponare la crisi economica e arginare lo spopolamento dei borghi dell'entroterra. Dunque, dopo più di 30 anni, l'area Vestina torna a fare comunità, cercando di sfruttare al meglio il vantaggio derivante dal nuovo super bonus 110% per interventi di efficienza energetica, ecobonus di riduzione del rischio sismico, sismabonus, o per l'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Nasce questo Consorzio appunto per rispondere all'opportunità normativa dell'ecosismabonus e nasce soprattutto con l'intento di mettere insieme tante realtà e tante eccellenze della nostra area sia a livello di imprese ma anche a livello di cliente finale per dare un servizio di qualità, di professionalità e per accrescere il territorio in ogni suo aspetto. La sede operativa in via San Francesco a Penne sarà a disposizione di professionisti e clienti finali per consulenze tramite collaboratori pronti a guidarli in tutto il processo di ristrutturazione. Una sede diciamo d'eccellenza anche in un luogo molto fruibile dove c'è anche dal punto di vista logistico la possibilità di parcheggio, visibilità e comunque sempre aperta con dei collaboratori sempre disponibili, preparati sia dell'accoglienza ma anche dell'aspetto tecnico e dell'aspetto consulenziale per poter essere vicini sia alle imprese consorziate in termini di consulenza e guidarle nel processo ma anche dal punto di vista del cliente soprattutto per ricevere il cliente, dargli giuste spiegazioni portare avanti le sue istanze fino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è quello di un lavoro a regola d'arte ben riuscito e che sposi in maniera perfetta quella che è il ciclo della normativa. È un consorzio orizzontale per cui non ci sarà nessuno che avrà più voce in capitolo rispetto agli altri e ovviamente lo spirito etico e morale di questo consorzio è riportare alle imprese locali il giusto e degno riconoscimento di un lavoro veramente ferrato sul territorio. Uno dei requisiti per entrare ovviamente è la regolarità contributiva nonché una condizione, una situazione economico-bancaria accettabile non diciamo eccellente perché ovviamente il periodo è stato quello che è stato e ovviamente vogliamo essere anche comprensive per chi in questo momento ha qualche difficoltà.